Innanzitutto è la festa dell'amore e per amore innanzitutto dobbiamo ricordarci che se non ci amiamo noi stesse non ci può amare nessuno. Quindi San Valentino deve essere una festa per la donna e deve essere importante capire che l'amore non segna mai. Aprirà le sue porte proprio nel giorno di San Valentino all'interno della sede a retina della Croce Bianca in via dell'Anfiteatro lo sportello antiviolenza. Per cercare appunto di dare informazione e sostegno alle donne vittime di violenza, una violenza che può essere fisica ma soprattutto psicologica, economica e sessuale. Un'attività che rientra nell'ambito del progetto Vanessa promosso da Ampas Toscana, acronimo di volontari Ampas esperte in violenza di genere. Abbiamo deciso di dare una stanza per dare ascolto alla donna e c'è un numero di telefono a cui noi rispondiamo sia per telefono che per whatsapp. E diamo appuntamenti mettendoci d'accordo appunto sulle disponibilità, siamo volontari e quindi una disponibilità di ambo le parti. E poi saremo presenti nello sportello un pomeriggio a settimana. Si tratta di uno spazio dove le vittime di violenza di genere non solo potranno rivolgersi per trovare un aiuto immediato. Lo sportello infatti nasce per dare una risposta informativa di ascolto in primis perché la donna va sostenuta e accompagnata quando ritiene di essere accompagnata alla rete territoriale già esistente. Però diciamo che il nostro obiettivo in poi del domani sarà quello di creare dei programmi educativi nelle varie realtà, quindi di rivolgerci a vari settori, dal bambino all'adolescente all'uomo adulto, proprio perché non è pensabile che sia la donna a dover sempre scappare. Lo sportello, il quindicesimo aperto attualmente in Toscana, è nato col supporto dell'Ampas di Castiglion-Fibocchi oltre che della Croce Bianca di Arezzo e Rigutino. Il mondo ci insegna che il singolo ha poca forza, l'unione di tutti quanti dà una forza maggiore, dà uno spessore maggiore a quello che andiamo a fare, l'unione tra le associazioni Ampas ci è sempre stato e questo è un motivo in più per intensificare ancora di più l'unione che abbiamo sul territorio e per dare una risposta presente e maggiore a tutta la popolazione. Grazie. Grazie. Grazie.